Siamo all'ottava parte. Quid nos aglia concupiscimus fratres? Quid? Quid vuol dire che cosa, ma può voler dire anche perché. Perché noi desideriamo aglia, altre cose, abbiamo un neuto plurale, quindi, cosa sottinteso, fratres o fratelli. Queramus, grazie, et per mariam, queramus, questo è un congiuntivo esortativo, cerchiamo la grazia, e queramus, cerchiamola attraverso Maria, o per mezzo di Maria, o un complemento di mezzo, o un complemento di moto, per luogo figurato. Poiché... Quod querit invenit. Questo quad ha oc-quod. Oc è soggetto di invenit. O meglio, è complemento oggetto di invenit. E quad è complemento di querit. Poiché trova ciò che cerca. E non può essere frustrare, vuol dire non può essere frustrata, non sta bene, mettiamo, e non può, e questa cosa non può esserle negata. È un infinito presente passivo che fa da predicato verbale compotes che è servile. Cerchiamo la grazia. Grazia ma pu Deo, ma grazia presso Dio. Nam apu domines grazia fallax est sottinteso. Infatti, presso gli uomini, la grazia e il favore, i favori, sono fallaci. Quera antalli meritum, nos invenire grazia un studiamus. Questo querat è un congiuntivo, non è però esortativo. È il congiuntivo concessivo delle proposizioni principali. Andate a vedere sull'analisi, manuale analisi, cos'è la proposizione principale concessiva e cos'è la proposizione subordinata concessiva che si leggono poi al complemento di concessione, complemento concessivo. Qui, oltretutto, bisogna andare a vedere anche nel congiuntivo i varie possibilità di congiuntivo. E uno dei tanti congiuntivi è il congiuntivo concessivo dove bisogna aggiungere un pure. Cerchino pure gli altri il merito. Nos studiamus. Noi cerchiamo, ci impegniamo in venire grazia, di trovare la grazia. Qui, con grazia, intendiamo sempre il favore di Dio. Qui, denim. Che cosa, infatti? Non grazie esco ad exumus. Num. Né non e num, vi ricordate? Quando non ci sono né pronomi, né avverbi, né aggettivi interrogativi, il latino vuole mettere queste particelle. Num. Non siamo, non siamo forse qui, num, sumus, ic. Dunque. Num grazie est. No, scusate. Ci sono due verbi. Non è forse proprio della grazia. E questo è un genitivo di pertinenza. Non è forse proprio della grazia. Che, quod esplicativo, siamo qui. profetto, misericordia e domine est. Quod non sumus consumtinos. Profetto, certamente. Est, direi di nuovo col genitivo, introduce un genitivo di pertinenza. è proprio della misericordia e proprio della misericordia di Dio che, di nuovo un che dichiarativo, non siamo distrutti. Non sumus consumti. O consumo potrebbe anche essere un perfetto. Non siamo stati distrutti. Non sumus consumti. Allora, lì bisogna vedere. Il discorso è piuttosto complesso. Se si vuole tenere sumus consumti come praticato verbale è passivo di consumo. Sumo sumi sumsi consumere. Oppure considerare sumus raccopole consumti una parte nominale. Allora, nel primo caso non siamo stati distrutti. Nel secondo caso non ci troviamo distrutti. Non siamo distrutti. Nel senso di non ci troviamo distrutti. Qui nos qui c'è un sumus sottinteso. Chi siamo noi? Nos pariuri, nos adulteri, nos omicide, nos rector, aptores, purgamenta utico e mundi uius. Noi, spergiuri. Noi, adulteri. Noi, omicidi. Noi, ladri. purgamenta l'ordure è un eutoplurale diciamo del tutto l'ordure mundi uius di questo mondo. È evidente che qui c'è un sumus sottinteso. Ancora, noi siamo spergiuri, noi siamo adulti, noi siamo omicidi, noi siamo ladri. Noi siamo l'ordure assolutamente mundi e ius uius di questo mondo. Consulite coscienzias vestras, fratres. Ed vedete qui a Ubi abundavit delictus superabundat et gratia. Consulite è da consulo che quando dopo è complemento oggetto vuol dire consultate. Consultate le vostre coscienze o fratelli e vedete qui a poiché Ubi abundavit dove è abbondato il delitto io abundavit mettiamo per una traduzione più letterale è abbondato e ho messo il presente ma si potrebbe anche mettere il presente l'unico modo poiché dove è abbondato il delitto superabundat et gratia anche sempre di nuovo questo et con valori di anche abbonda la grazia Maria non pretendit meritum sed gratiam querit Maria non pretende il merito ma cerca la grazia ricordatevi sempre grazia con valori di favore di Dio deninque usque adeo fidit grazie e non altum sapit ita ut salutazione evangelica ma vereatur deninque perciò adeo a tal punto usque adeo fino a tal punto fidit si abbandona si fidano della grazia e non sapit altum e non ha sete sapio è un verbo che legge l'accusativo e non ha sete dell'altezza quindi io te lo durrei semplicemente non cerca l'altezza ita ut c'è un ita sottinteso cosicché vereatur teme siamo al congiuntivo vereor e deponente il saluto dell'angelo il saluto angelico infatti infatti Luca cosa dice Maria inquit cogitabat quali sesse tista salutatio Maria pensava e abbiamo poi un'interrogativa indiretta quale fosse codesta codesto saluto per quale motivo l'angelo la salutasse in quel determinato modo nimirum sese salutazione angelica reputata indigna certamente reputava sese reputava se stessa questo sese è un rafforzativo di sé indigna indigna è un complemento praticativo dell'oggetto che si riferisce a sese di questo saluto indignus e dignus reggono l'ablativo infatti salutazione inablativo attenzione che meditore depunente quindi forma passiva messicicato attivo e forse meditava queste cose tali cose onde oc mi ut veniat angelus domini me ad me donde oc questa cosa est mi e a me capita a me c'è un est sottointeso e poi ci abbiamo voluto esplicativo che venga a me angelus domini mei l'angelo del mio signore ne timeas maria ne mi re ris angelum benientem siamo in esortazioni vedete congiuntivo timeas mereor è nuovamente un deponente congiuntivo anche lui non temere maria non meravigliarti dell'angelo che viene miro regge un accusativo però noi non possiamo mettere in accusativo io mi meraviglio di qualcuno di qualcosa e venit viene c'è un uno sottinteso viene uno maggiore dell'angelo viene chi è maggiore dell'angelo angelo secondo termine di paragone oppure potremmo anche mettere semplicemente e un maggiore dell'angelo viene facendo diventare maio soggetto aggettivo sostantivato ne mi re ris angelum domini non meravigliarti dell'angelo del signore abbiamo già visto priva non meravigliarti dell'angelo del signore dunque non meravigliarti dell'angelo del signore e dominus angeli tecum e te lo metterei di nuovo con anche dominus angeli il signore dell'angelo tecum e con te c'è un est sottinteso di nuovo est tecum postremo quidani videas angelum cum jama angelice vivas in fondo quidani perché non quidani vuol dire non videas non dovresti vedere siamo di un momento un congiuntivo dubitativo io uso il verbo dovere andate a vedere il congiuntivo dubitativo sul mio manuale e perché mai non dovresti vedere l'angelo quando già vivi angelicamente quidani visitat angelus vite socium di nuovo perché mai l'angelo non dovrebbe visitare una compagna di vita sociam vite quindi un angelo essa stessa quidani salutet civem santorum e domestica dei quidani di nuovo perché mai di nuovo dubitativo non dovrebbe salutare una cittadina dei santi e una come potremmo dire cosa avevo scritto e una familiare di dio angelica plane vita virginitatis la virginità è un est sottinteso è una vita decisamente angelica del tutto angelica et qui non dubent neque dubentur erund sicut angeli dei qui c'è un ei sottinteso e coloro che non sposano e non sono sposati erund saranno come gli angeli del signore di dio ei qui perché qui è soggetto di nuvent ei sottinteso perché dimostrativo trovandosi nello stesso caso del relativo viene sottinteso può essere sottinteso quel lei è sottinteso che si dovrebbe trovare qui è soggetto di erund quindi e coloro saranno come angeli di dio come angeli come angeli o come angeli